Ben ritrovati in nuovo su Review New, come vedete queste sono delle Stan Smith in condizioni abbastanza pietose ho deciso di riverniciarle con un prodotto comprato su Amazon della Colloni il prezzo è veramente accessibile, lo trovate spesso scontato a 6 euro ora vi lascio il link in descrizione, questo come vedete è il prodotto e vi mostro come sono andato ad applicarlo alle scarpe e il risultato quindi prima e dopo iniziate a mettere lo scotch sulle parti che volete appunto preservare quindi ho messo semplicemente dello scotch e poi ho iniziato a tamponare con la parte spugnosa come vedete dovete esercitare un pochino di pressione e lo passate su tutta la parte della scarpa interessata in questo modo io mi sono limitato ovviamente a passarlo sulla parte, sul profilo della suola e come vedete si vede proprio la differenza tra il colore prima quindi sporco diciamo e quello consumato mi raccomando ovviamente di procedere a lavare per bene le scarpe e pulirle con uno straccio comunque prima di passare il prodotto come vedete il bianco è proprio fedele alla scarpa e questo è il risultato dopo aver fatto più passate come vedete è un bianco veramente pulito che non stona per niente sembrano effettivamente nuove e anche i graffietti sono andati via link in descrizione del prodotto alla prossima review